In occasione del IV Congresso Nazionale degli Ingegneri, all'Istituto Galileo Ferraris ha avuto luogo l'inaugurazione di un nuovo grandioso centro di studi dell'elettricità, visitato dal segretario del partito. Una comitiva formata da circa 200 partecipanti al Congresso ha visitato i poterosi moderni impianti idroelettrici dell'Alta Valle dell'Orco. Grazie per la visione!